ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video di cyberino svappo oggi ragazzi sono qui a presentarvi una nuova mod bf clone logicamente presa in cina poca spesa tanta resa siamo sui 35 euro come prezzo oggi ragazzi vi presento la galactica mod questa è la scatola che arriva modello idra scatola praticamente uguale all'originale gliel'hanno clonata in tutto adesso andiamo ad aprire la scatola vediamo come è fatta la mod vi spiego un paio di modifiche da fare se vi arriva il modello come il mio e poi logicamente facciamo una bella prova di svappo tutti insieme andiamo a vederla da vicino galactica mod eccola qui scatoletta idra vega dall'altra parte sotto abbiamo il modello i colori che possono essere la box qui non hanno scritto niente la portellina in carbonio oppure sostituita con qualcos'altro di diverso gli altri colori primari sempre la porta è la scritta galactica punto it con il loro logo logo logicamente come l'origine però la box è un clone di prima categoria andiamo ad aprire la box all'interno trovate due boccette apro una brugola allora le boccette ragazzi non sono molto molto buone come vedete sono abbastanza rigide quindi consiglio mio da cambiare immediatamente seconda boccetta anche questa vedete se io vado a premere vado a tappare esce l'aria da tutte le parti filetto quello che è ma queste qua come vi ho detto si prendono e si buttano immediatamente via non sono proprio malissimo ma neanche da utilizzare box arriva così all'interno della scatola non trovate più nient'altro la box la tiriamo fuori dal sacchetto ed eccola qui sportellino in carbonio scritta galactica posto per la boccetta dove andare a scuncare con il dito dell'altra parte non abbiamo niente solo i segni di lavorazione pulsante galactica con il loro simbolo andiamo ad aprire lo sportellino e all'interno vedete questo è lo sportellino all'interno è fatta così praticamente lamelle in rame che fanno i contatti come vedete questo qui è un pezzettino di biadesivo messo solamente per andare a fare un po di spessore tra la batteria e la lama per ciò che non vado a fare contatto con il pezzo sopra vedete dove vado a fare il contatto con la lama lì ci sarà l'arco voltaico batteria con il positivo verso l'alto e sotto c'è una molla che come vi ho detto bisogna prendere e sostituire immediatamente poi vi allegherò anche una foto del lavoro che ho fatto su un'altra box e vedrete come ha sostituito la molla e poi vi mostrerò invece un'altra mod con al posto di aver sostituito la molla avere fatto una modifica sulla lama abbiamo fatto solo la modifica sulla tazza questo qui è l'adesivo delle batterie che logicamente si stacca perché insomma è un po una cinesata ma sinceramente ragazzi 35 euro cosa volete di più tazza qui abbiamo il foro per il bf per lo skunk e questa è la box in tutte le sue parti se andate a vedere lo sportellino dalla parte dove c'è la scritta galactica abbiamo i magneti questo andrà a farci la chiusura della box oltre a chiudersi con come vedete con i bordini comunque già non si muove poi avrete anche le calamite che andranno a tenere fisso lo sportellino sulla box quindi questa ragazzi è la box più di tante cose su questa box in a cui non c'è da dire perché veramente un prodottino che vale quel che costa 35 euro ma io sinceramente la utilizzo ogni giorno come vedete qua sotto c'è una specie di lavorazione un cerchio come vedete il cerchio è fatto apposta perché dall'interno io posso spingere con il dito vedete qui pingo con il dito questo esce è un tappo per andare a fare la sostituzione della boccetta del billet adesso ragazzi vi mostro come ho fatto la mia box ecco qui questa è la mia box allora il lavoro che è stato fatto all'interno è stato fatto solamente come vedete una piega sulla lama di rame sotto è stata tolta la molla proprio tirata via del tutto e la batteria mi fa il contatto con il negativo ed il positivo verso l'alto fisso senza effetto e la boccetta come vedete sostituita immediatamente con una super soft style lucos clone presa per 6 euro però ragazzi quando scunca questa qui è tutto un altro modo e sopra come vedete gli ho montato un pulse 22 un atomizzatore rda da flower che poi vi mostrerò una prova di svapo e logicamente presto vedrete anche la sua recensione andiamo a chiudere la boxina eccola qua chiusa ragazzi box sinceramente per quello che costa io ve la straconsiglio perché perché per scusatemi un po di liquido per 35 euro li vale tutti quanti l'unica cosa come vi ho detto due modifiche boccetta e lamella poi se si vuole si possono fare anche altre modifiche sul sulla parte superiore dove ci sono le due lame che fanno il collegamento del negativo e il collegamento del positivo c'è solo un pezzettino che va a dividere si può isolarle meglio per essere un po più sicuro rieccoci qui allora la box come vi ho detto vi arriva così questo è il modello di come vi arriva come vi ho detto sostituire la molla o potete alzare la lama qui avete un ferretto come vedete questo ferretto qui viene via una volta tolto vedete qui va a tenere la lama esce potete prendere la molla di saldarla e andarla a saldare sotto la lama facendogli poi una piega per far star più comoda poi la batteria volendo si può andare fare l'isolazione migliore tra le due lame del positivo e del negativo vicino alla tazza questo è sempre un mio consiglio sostituzione della boccetta pendete di 35 euro fatti di quei due lavoretti box da 6 euro e poi andate a fare i due lavori delle lame e non avete mai più un problema questa è la box quindi come me la sono fatto io la modifica giusto leggera per la lama come vedete la mia lama è stata piegata in su e va a fare il collegamento fisso tra il positivo e il negativo quindi abbiamo come una box a lamella non più con la molla ma anche se andate a fare la sostituzione come vi ho detto io che mettete la molla sotto la lama è solo per una questione di elasticità perché comunque poi diventa una box a lama e la molla non vi farà più da fusibile salvavita come box come vi ho detto adesso vado a mettere una batteria nuova mi raccomando ragazzi sempre batterie tenute bene con il libra perfetto perché qui abbiamo come vedete abbiamo i contatti se voi la batteria l'avrete l'avete svrappata rovinata con i pezzettini fuori può andare a fare dei contatti meglio evitare meglio evitare allora box pronta batterie sony vtc 5a atomizzatore paes 22 poi farò una bella recensione su questo atom da flavor che io veramente adoro ho fatto una rigenerazione con un filo twistato e frappato per avere un po più di aroma bella bella vaporosità come vedete e adesso andiamo a fare una prova di svarto questa volta non vi mostro logicamente rigenerazioni perché la rigenerazione era già stata fatta la dimostrazione della rigenerazione del paese verrà fatta logicamente sulla sua recensione qui siamo qui sono a mostrarvi la galà ragazzi prova di svapo diamo una sconca tina giusto per essere sicuri vedete cambiando la boccetta è proprio super super soft silicone alimentare ragazzi l'atom va alla grande ma la box fa egregiamente il suo lavoro spesa piccolissima con 41 euro avete la box e anche la boccetta super soft quindi 41 euro e avete veramente un super sistema in mano fate quelle due modifiche mi raccomando fatele almeno la modifica della lama quello importante perché se la molla a come se andate a svapare a guancia no ma appena andate a polmone a flavor la molla si affloscia immediatamente quindi fategli quei lavoretti ragazzi questa io la utilizzo tutti i giorni me la porto ovunque non ho paura di rovinarla perché costa poco anche se la rovino piuttosto ne prendo un'altra quindi ragazzi io ve la straconsiglio perché poca spesa tanta resa l'atomizzatore presto una bella recensione perché questo merita ragazzi io ve lo consiglio logicamente polmonare tranquillamente cloud chasing in flavor ma se vi piace la guancia potete anche svaparla tranquillamente a guancia tutto il giorno se andate con la guancia non avete il problema della molla anche se io logicamente vi consiglio di sostituirla in ogni caso e in ogni utilizzo ragazzi come sempre se vi è piaciuto il video mettete un mi piace iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima recensione ciao ragazzi ciao 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 ciao